Beh, innanzitutto grazie mille per avermi invitato, sono molto contenta di essere qui allo stand di Nexencar. Come vivo tutto questo ambiente, sono una sportiva, ma è sempre un ambiente un pochino nuovo per me, perché comunque sono una che anch'io fruisco perché ho una macchina, guido, mi piace guidare, quindi vado periodicamente a fare il mio cambio di gomme e certe cose le so, però secondo me oggi ho molto da imparare qua. Si parla sempre di innovazione, l'innovazione è in tutti i campi, è nei campi, è arrivata anche sicuramente nel campo dello sport e lo vediamo, io sono un pochino esperta di calcio e vedo che la tecnologia avanza anche lì, sicuramente avanzerà anche in tutti gli altri sport come è avanzato nelle moto, nelle macchine, quindi nella Formula 1 e sta facendo sempre più piede, è necessario, andiamo verso quella direzione, chi non si innova rimane indietro e quindi innoviamoci. Gli eventi del futuro saranno sempre più innovativi e forse i presentatori e le presentatrici saranno degli ologrammi, non lo so quello che succederà. So che non bisogna fermarsi, bisogna sempre stare al passo coi tempi e anche il pubblico magari sarà più interattivo e riuscirà a dare un contributo più importante e speciale durante anche tutti gli eventi. La squadra è la cosa più importante per raggiungere il successo, questo è un mio pensiero, ma secondo me è un pensiero che hanno in tanti. Infatti fin da piccoli tante volte i bambini, soprattutto nelle culture anglosassone, vengono messi a lavorare e a collaborare insieme per fare gruppo, perché da soli non si va da nessuna parte, perché bisogna strutturarsi e per fare grandi progetti servono tante teste e quindi queste teste devono lavorare insieme. Secondo me la squadra e il gruppo è il fattore numero uno per vincere. 20-100 è l'agenzia numero uno? No, mi sono trovata molto bene, siete una squadra fenomenale, siete fantastici, avete capito che si lavora in gruppo, la mia esperienza è sicuramente positiva, mi sono trovata bene e vi ringrazio. Un grosso bacione a tutti quanti, ciao!